Quelli che è il calcio Raffaele. All'interno di questo programma televisivo che si occupa per l'appunto di sport nell'ottispecie concreta a calcio, c'è la presenza anche della bellissima Virginia Raffaele in alcune puntate che si è per l'appunto distinta, oltre che per la sua capacità di imitare alla perfezione molti tip, anche per il suo fisico e la sua bellezza, gambe veramente straordinarie, bellissime, sensuali, affascinanti e un corpo veramente da urlo. Ma all'interno di quelli che il calcio, la bella e simpatica Virginia ci ha offerto un ventaglio di interpretazioni, di imitazioni veramente strabilianti, Belen, Rodriguez, Nipò Palminetti e tantissimi altri personali giudamente interpretati, con capacità, con maestria e con grande impegno. A lei e a te cara Virginia nel caso che mi stessi guardando, dico continua sempre così, riesce a essere sempre in gamba, sempre competente e capace di farci sorridere ed è proprio questo uno dei tratti distintivi della tua, chiamiamola naturalezza, del tuo char e della tua bellezza. Brava, continua sempre così, un saluto e a presto.